Il mio papà era al contrario. Le bambine dovevano fare tipo ginnastica o danza. È una bambina, dai, è scarsa. Non mi tocca neanche quello che dicono su di me. Se è una cosa che ti rende felice, la fai un'altra. Non mi interessa al giudice degli altri. Gioco la mia partita e vado avanti.